stavo iniziando ad editare il video della spesa e mi sono accorta che non vi ho neanche salutato all'inizio video quindi lo faccio adesso ciao a tutte e benvenute in questo nuovo video ieri siamo andati a fare la spesa da INS per la prima volta qui da noi è aperto circa da un mesetto forse al posto di un altro discount adesso non mi ricordo quello che c'era prima sinceramente comunque molto carino perché ovviamente è nuovo quindi tutto pulito, tutto in ordine mi è piaciuto ovviamente essendo un discount un po' piccolo c'è poca scelta per quanto riguarda frutta e verdura però qualcosina abbiamo preso i prezzi pensavo fossero leggermente più bassi però ovviamente sono più bassi rispetto a un Conad o una Coppa o un S lunga e niente poi mano a mano che proveremo i prodotti vi farò sapere come sono ieri mi ero dimenticata anche di farvi vedere questa la Scottex, il rotulone asciugatutto, versione natalizia fatemi sapere se anche voi siete stati da INS se vi piace, se non vi piace fatemelo sapere e niente vi lascio al video ciao siamo andati a fare la spesa da INS che ha aperto qui da noi da qualche settimana e abbiamo speso 80 euro e 17 pensavo di spendere un pochino meno però vabbè vediamo un po' poi come sono le cose questo è il volantino allora di salumi abbiamo preso petto di tacchino 1,35 euro 1,39 euro una cosa del genere petto di pollo al forno 1,45 euro poi 2 di prosciutto cotto quanto veniva il prosciutto cotto? 1,59 euro è quello light poi 4,49 euro i filetti di platezza alla mugnaia poi 4 pizzette di margherita così per fare merendina 1,99 euro hamburger di prosciutto cotto 1,69 euro poi queste braciole di lombo 2,61 euro hamburger di povino adulto ce ne sono 4 all'interno pagati 3,99 e poi 2,99 questa gran cotoletta gli spinaci con filetti di pollo italiano lievito per dolci 79 centesimi 2 ricottine bio 89 centesimi gorgonzola dolce 2,49 euro 2,89 euro questa mozzarella qua per la pizza che stavate facciamo la pizza e abbiamo provato a prendere anche questa che è la base appunto per fare la pizza formato rettangolare ne abbiamo presi due 1,52 euro poi pasta sfoglia fresca light 2 euro no 1,09 euro 6,52 euro il parmigiano reggiano stagionato oltre i 30 mesi 99 centesimi questi taralli del contadino ho provato a prendere per me questi plum cake con farina integrale ce ne sono 6 all'interno pagati 1,09 euro mentre 1,59 euro queste brioche qua glassate e farcite con crema al cioccolato sembrano un po' i buondi 1,09 euro abbiamo preso questi filoncini qua di pane questa sera questi fruttini qua alla mela 39 centesimi ne ho presi 4 1,2 3 e il quarto non lo trovo questa confezione qua di kiwi pagata 1,99 euro 87 centesimi il cavolfiore le carote 89 centesimi poi abbiamo preso questo succo qua di limone e 1,29 euro i fourré biscotti farciti con ripiano di cacao ultima busta 99 centesimi questi paninozzi qua per gli hamburger poi poi il pane di grano duro il fruttolino per la Sara pagato 1,39 euro poi il tè al limone per la colazione per me pagato 1,09 euro poi che c'è l'insaporitore qua per carni l'altro fruttino alla mela poi ho preso le gocce di cioccolato fondente così quando magari abbiamo voglia di qualcosa di dolcino uso queste queste venivano 1,89 euro poi abbiamo preso la passata questa qua classica questa 89 centesimi poi abbiamo preso questa confezione qua enorme di tonno pagata 9,49 euro e ci sono 12 lattine poi abbiamo preso il pesto senza aglio un succo alla pesca delle arance cotton fioc e una spugna per la doccia quindi questa è stata tutta la nostra spesa fatta da Jens per la prima volta poi proveremo le varie cosine e poi vi faccio sapere un po' come ci siamo trovati se il video vi è piaciuto lasciatemi like iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao